Dai dati elaborati dall'Osservatorio Turistico dell'Assessorato Provinciale al Turismo, nei mesi di gennaio e febbraio la provincia di Agrigento, in termini di presenze nelle strutture turistiche ricettive, ha evidenziato un incremento dell'8,42% rispetto allo stesso periodo del 2013, frutto di un saldo ampiamente positivo nel mese di febbraio 2014. Buoni i dati sulla permanenza media per singolo turista. Nel mese di gennaio si è registrato un calo delle presenze, sempre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, del 2,63%, mentre a febbraio l'incremento è stato del 19,01%. La permanenza media si attesta a oltre due giorni e mezzo, leggermente più alta rispetto al 2013. Contrastanti i dati sugli arrivi in provincia. Gli arrivi di turisti italiani sono stati 9.599, con un aumento del 9,36%, mentre gli stranieri arrivati in provincia di Agrigento sono stati 4.443, con un calo del 10,31%. Diversa la situazione delle presenze nelle strutture turistiche. Il dato positivo si riferisce sia agli italiani con un più 9,37%, che agli stranieri con un saldo positivo del 6,31%, per un totale complessivo di un più 8,42%. Questi dati indicano che sono arrivati meno stranieri, almeno nei primi due mesi, ma hanno soggiornato per un periodo più lungo. Mentre, per quanto riguarda i turisti italiani, il dato positivo si riferisce anche al numero di arrivi, più 7,76%, oltre che alle presenze. I dati elaborati sono disponibili online sul sito della provincia nella sezione Turismo.